Belli chicchi, sti giorni il canale è un po' fiacco, quindi vi chiedo di supportare, lasciare un bel like, commentare e condividere questo video con tutti i vostri amici. Belli chicchi. Ciro Immobile si avvicina all'arbitro, l'arbitro controlla da vecce ancora tutte e due i loro orologi. L'arbitro è velocissimo, si ruba il pallone e i guardialini erosicano un botto perché volevano prendere prima loro. Alhand ha fatto seca scola per venire a giocare a sta partita. La leggenda narra che dentro i capelli dei Vitzel c'è una traccia di vita aliena. Alassio parte col pisellotto dritto e subito sigla l'uno a zero ed è proprio Ciro Immobile a siglarlo, l'uomo più criticato della settimana. E il portiere si scola una boccia di vodka per dimenticare. Grande progressione del botulino Dortmund che arriva davanti al portiere ma Stracoscia salva tutto. Grande occasione per Alassio con Correa che arriva davanti al portiere e poi si caga a mano, lasciato più solo del compagnetto scureggione dalla classe. Lo stacca Luigi Filippo che colpisce in testa il portiere che si segna da solo. Tiè, guardate che bel headshot. Luigi Filippo esurta come un pazzo e fa pure la scivolata che è ginocchia che poi gli verranno amputate entrambe per le brutte scoriazioni subite. Il Dortmund prova a reagire ma è meno preciso di me dopo una serata a Campo dei Fiori. Alhand è arrabbiatissimo contro la maestra di matematica e sfoga tutte le sue frustrazioni contro Stracoscia. Patrick, e non quello di Spongebob, cerca di battere gli pezzi ad Alhand. Peccarmarlo. Non ce so cazzi. Per giovane, Alhand tira una multiple addosso a Stracoscia. Stracoscia lo denuncia per tentato omicidio. Ma solo dopo pochi minuti è l'Alasio che spegne l'euforia del Dortmund, facendo un gol con Akpa. La partita finisce 3-1 con i complimenti all'Alasio che fa una grande partita contro una grande squadra. Complimenti pure a Ciro Immobile per il bel assist e il bel gol. E se il video vi è piaciuto vi ricordo di condividerlo con tutti i vostri amici laziali e non lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e appicciate la campanella che è molto importante. Noi si vediamo al prossimo video. Belli vecchi! Belli vecchi!